Nel video di oggi vedremo come funzionano le cuffie senza fili bluetooth. Per ricaricarli, collegare un cavo micro USB al retro della scatola, con le cuffie all'interno. Clicchiamo sul pulsante sulla scatola e vediamo come si accende una luce, questo significa che si sta caricando. Per collegarli abbiamo due opzioni, connetterne una sola per parlare al telefono o connetterle per ascoltare la musica. Per la prima opzione, dobbiamo premere il pulsante di accensione finché non vedremo l'illuminazione della luce. Una volta acceso, andiamo all'opzione bluetooth del nostro telefono, e una volta che il dispositivo ha funzionato, l'abbiamo collegato. Grazie a tutti. Lo spegniamo fino a quando la luce si spegne. Per la seconda opzione, accendi le due cuffie e contemporaneamente, premi i due pulsanti contemporaneamente, fino all'accensione delle luci. Le associeremo premendo due volte in rapida successione sul pulsante di una di esse. Vedremo che uno di loro mantiene la luce, mentre nell'altro si spegne, questo è che sono stati abbinati correttamente. E ritorniamo al bluetooth del nostro telefono, cerchiamo il nuovo dispositivo e lo colleghiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.